ciao a tutti e benvenuti sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello oggi di bello vediamo una penna disassemblata perché in questo video ho intenzione di condividere una piccola coincidenza diciamo felice coincidenza che riguarda lo smontaggio di questo pennino parliamo di una pelican 140 con pennino io direi semi flessibile per non esagerare sì non è non è esattamente un flessibile però un pennino che si difende decisamente bene eventualmente lo vedremo in una recensione magari comparativa tra pennini flessibili vintage fatemi sapere cosa ne pensate in merito la cosa che contraddistingue questa questa penna abbastanza rinomata innanzitutto vabbè la trovate diciamo nel mercato dell'usato diciamo ripristinata anche sui 150 a 200 euro massimo parliamo comunque di un pennino in oro 14 carati mi sembra no anche 18 dipende e la caratteristica ahimè è una bellissima penna però lo smontaggio è un inferno perché perché questo alimentatore in ebanite è veramente dalle lamelle molto molto delicate infatti come potete notare l'inesperto stilograficamente e ci ha provato a estrarlo e si sono spaccate un po le levette le lamelle poco importa perché fondamentalmente l'alimentatore funziona benissimo perché la conduzione avviene qui il fenomeno di capillarità è comunque diciamo abbastanza salvaguardato dal giusto assetto qual era il problema il problema è che evidentemente perché si era molto incostata evidentemente perché diciamo nonostante io l'avessi utilizzata in varie occasioni proprio per cercare di ripristinare il funzionamento corretto comunque questa penna c'è questo questo collare che tiene fermo vedete la sto rimontando l'alimentatore in assetto col pennino diciamo questo collare qui è un po un inferno da estrarre adesso sono andato un po troppo in giù sto facendo varie prove perché onestamente non l'avevo ancora riassemblato e mi hanno detto insomma ho fatto un po una domanda plateale tra tra gli appassionati e in particolare uno che è molto appassionato di pelican ha deciso di restare anonimo quindi mi ha detto di citare il forum fontanepen.it e io così faccio quindi andate sul forum fontanepen.it dove troverete una serie di consigli per poter sbloccare in maniera abbastanza prolungata nel tempo il collare perché voi sostanzialmente lo trovate avvitato in questo modo ok quindi quando adesso il pennino non è ben incastrato che quindi ci dovrò giocare per riassemblare ma rende l'idea quando la penna in queste condizioni e magari dentro avete difficoltà a pulirla o dovete ingrassare col grasso siliconico il pistone è fondamentalmente è dura è dura perché non potete accedere c'è questo pistone non si smonta con chiavette ok per sbloccare il pistone io per esempio lo dico con onestà non ci sono ancora riuscito perché bisogna dare dei bei colpi che non mi sento di dare e anche perché non ho lo scopo di doverlo fare in realtà non c'ho il mordente come si suol dire perché perché io semplicemente avevo dell'inchiostro che rimaneva comunque nella finestrella ancora è un po opaca quindi ci dovrò lavorare un po il mio scopo era fare quello che si può fare con qualsiasi pelican moderna cioè questo gesto svitare il corpo di scrittura direte voi ma è semplicissimo no in realtà la pelican 140 vintage è molto dedicata quindi non è affatto un'impresa banale e quando si inchiosta diciamo si incrosta l'inchiostro per lungo tempo le banite evidentemente si magari si gonfia si rischia di rompere il collare sto correndo il rischio anche durante questo video perché sto cercando di incastrare il pennino correttamente con l'alimentatore comunque in linea di massima è un gioco abbastanza rischioso doverlo disincastrare quindi quali sono i consigli che vengono dati bando alle ciance e solitamente si dice lasciala a bagno con il corpo scrittura immerso nell'acqua per un bel po di tempo e questo dovrebbe un po aiutare a diciamo ammorbidire l'inchiostro che si è incrostato e via discorrendo poi si dice anche usa il vd 40 allora si dice io non lo so se c'è scritto sul forum questo mio amico che è stato così paziente da darmi assistenza l'ho chiamato e semplicemente lui mi ha detto prova col vd 40 perché io avevo delle remore mi era venuto in mente ma siccome uno sbloccante serrature abbastanza aggressivo abbastanza violento ha un potere penetrante notevole io avevo qualche remora diciamo faccio tanti errori come penso molti di voi può capitare a chiunque però in linea di massima soprattutto il primo anno che era appassionato di stilografiche mi era venuto in mente di pulire una penna con una sezione in ebanite con dell'alcol e quindi è saltato fuori un bellissimo disegno di un fulmine perché naturalmente diciamo l'ebanite non è nient'altro che una gomma vulcanizzata solforizzata e quindi fa reazione con l'alcol io non lo sapevo e quindi per il vd 40 avevo delle remore magari siccome magari un prodotto che evapora eccetera mi hanno fatto tutte queste pare lui mi ha detto usalo e quindi io ci ho spruzzato un po di vd 40 è entrato niente non si sbloccava non c'era verso anche il mio amico mi ha detto vabbè sai che c'è di nuovo prova a scaldarla un po perché la plastica quando voi la scaldate e quindi la sezione è in plastica qui c'è le banite però diciamo aumenta un po la morbidezza si ammorbidisce un po con un poco di calore la plastica viene resa un po più malleabile ci ho provato col phon io non ho una pistola di aria calda quelle professionali però il phon ho detto andrà bene l'ho lasciato un po temevo di esagerare quindi ho abbandonato il progetto questo mio amico mi ha detto guarda se proprio non riesci prova a estrarre il il pennino e quindi lasci dentro l'alimentatore come vi ho fatto vedere prima se riesce a sfilare il pennino magari hai un po di gioco per poter ruotare un attimino più che farlo ruotare per far entrare l'acqua l'acqua calda perché il concetto qui era sciogliere quell'inchiostro quindi gocce di sapone cariche di carico di tensioattivi quindi ulteriore potere di ingresso e di penetrazione nello sporco acqua calda aria calda non c'era verso questo mio amico mi diceva guarda preparati a settimane di sofferenza cioè non è una roba che viene via subito poi mi è venuto in mente che con la pilot custom 823 del mio amico jet mcquack avevo notato che ero riuscito a smontare la sezione cosa che non ero mai riuscito a fare con la pilot custom 823 sia smoke che amber che avevo recensito prima ero riuscito a smontarla proprio perché avevo pulito le listelle dell'alimentatore con il mio compressore di aria e ho notato che comunque il compressore di aria fa delle micro vibrazioni cioè sollecita molto il materiale perché è un getto d'aria abbastanza convinto abbastanza forte ma non troppo perché il mio è a batteria e poi parleremo anche di questo aspetto in fondo al video c'è una cosa che magari vi interessa come strumentazione non lo so vedete voi comunque il concetto è oltre a muovere il il materiale impercettibilmente lo riscalda anche e dopo aver pulito in questo modo cioè aver infilato il il beccuccio della no lo vado a prendere perché spiegarlo così insomma non è carino dai me lo vado a prendere un attimo allora sono andato a prendere il cappuccio perché mi nervosisce lasciarla senza cappuccio poverina si sente nuda e ho preso anche il mio compressore il mio osser se si dice così non ne ho idea che è andato in esaurimento su amazon per almeno l'ultima volta che ho guardato non si poteva più acquistare e ve ne avevo parlato tempo fa comodissimo per asciugare le stilografiche senza lasciare residui più di tanto e soprattutto per asciugarle in velocità diciamo che questo questo compressore io l'ho usato così ho posizionato l'adattatore da spilla da pallone fondamentalmente l'ho puntato sulla base della dell'alimentatore giravo 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 lentamente questo che cosa ha comportato è chiaramente la vibrazione della dell'aria faceva dei micro movimenti che spostavano leggermente l'inchiostro in più c'era l'aria che penetrava tra le listelle della dell'alimentatore in più l'aria essendo in uno spazio molto ridotto già passando attraverso questo beccuccio che proprio è alla stregua di una spilla come di a come diametro e oltretutto passando attraverso i condotti della dell'alimentatore le lamelle dell'alimentatore ha riscaldato il materiale quindi caldo aria e vibrazione hanno completamente sbloccato il mio corpo di scrittura che era una cosa che normalmente ci si impiegava settimane a fare così mi aveva detto il mio amico quindi allo stato attuale di cose in realtà il processo ha comportato qualche piccolo step in più perché il mio compressore buono e caro quanto volete ahimè è un compressore che va a batteria batteria ricaricabile come potete vedere nella scatola era incluso anche per carità il suo alimentatore per caricarla ma la batteria un ciclo vitale e comunque anche lasciandola attaccata non riesce più a erogare la potenza necessaria ad avere un buon risultato quindi l'alternativa qual era era usarlo con questo questo che è alla stregua di una batteria in realtà è un alimentatore diretto che funziona con la presa dell'accendisigari dell'auto ecco perché c'è il simbolino dell'auto chiaramente io non è che c'ho sempre la macchina a portata di mano sinceramente e per asciugare una stilografica coinvolgere addirittura la macchina mi fa un po' specie anche perché devo andare giù in garage la gente mi vede andare in giro con le stilografiche ed è sempre un bene però insomma nel buio del garage insomma io c'ho il garage due piani sotto insomma è una cosa molto scomoda quindi ho detto cosa faccio compro una batteria di ricambio la batteria di ricambio non c'era e quindi in come ho risolto ho cercato per il giusto per il giusto per la giusta potenza un adattatore l'adattatore è questo e fondamentalmente ha una presa asciuco da un lato e la presa dell'accendisigari dall'altro per chi fosse interessato perché magari c'ha non solo il compressore ma il frigo portatile tipo quello che si usa in auto e vuole continuarlo a usare anche tipo arrivi a casa dagli amici lo stacchi dall'auto e vuoi attaccarlo in casa dei tuoi amici c'hai questo alimentatore che ti può far comodo così come per il compressore e altri strumenti che funzionano con quel tipo di attacco e niente quindi ci tenevo a realizzare questo video perché la pelican 140 è una bellissima penna una delle poche che calzo e perché comunque raggiunge le dimensioni ideali un ottimo muletto da passeggio la porto in giro senza problemi non mi ricordo onestamente dove l'ho comprata dovrò fare una storia mentale al ritroso e prima o poi ve la recensisco promesso comunque lo scopo di questo video era appunto darvi una piccola dritta che non vale solo per la sezione cioè il corpo di scrittura e il collare che sono venuti via in maniera eccelsa secondo me perché non non ci sono crepature non ci sono storture e a parte i miei primi esperimenti che logicamente denuncio perché sono visibilissimi per il resto devo dire che sono soddisfatto del risultato ad assaperlo prima non avrei fatto questi danni però si sbaglia e si impara mi viene da dire non so se l'ho detto prima questo diciamo bastoncino levigato opportunamente e tagliato serve a essere infilato qui perché in teoria battendo forte riuscite a espellere il dovete indietreggiare quindi indietreggiare del tutto la la guarnizione dello stantuffo in maniera tale che sia tutto ritratto verso il fondo dopodiché con dei colpi decisi e magari anche aiutandovi con un martelletto gommato perché se no se prendete il martello da chiorri e sbagliate andate a spaccare la sezione comunque questo per diciamo ultimare il disassemblaggio io non l'ho ancora fatto non so se lo farò perché il mio scopo qui era riuscire a pulire decentemente questa penna e dice diciamo che ho raggiunto un buon grado di soddisfazione c'è ancora un po di opaco sulla finestrella ma non so se se verrà mai via sinceramente e poi soprattutto ingrassare il lo stantuffo la guarnizione dello stantuffo l'ideale sarebbe appunto smontare il tutto non lo so io al momento non l'ho ancora fatto da capire se se va la pena forse riscalderò ancora con con il compressore se avete altri consigli per carità condivideteli perché sono queste le parentesi giuste nei commenti davvero condividete la vostra esperienza con la 140 se avete trovato dei metodi ancora più veloci perché è così che veniamo su tutti quanti insieme cioè dobbiamo in qualche modo ognuno ci aggiunge il proprio si si condivide e per carità se qualcuno è andato più avanti di me e ha trovato degli altri escamotage sono davvero curioso di 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 apprenderli bene direi che mi sono dilungato tantissimo per una cosa così piccola mi scuso per chi dovesse avere le orecchie che sanguinano per avermi seguito fin qui e vi do appuntamento al prossimo video se vi piacciono video sulle stilografiche sulla loro manutenzione sugli inchiostri sulle carte vi invito a iscrivervi al canale è anche una modo per facilitarlo ad arrivare a un maggior numero di persone possibile se vi è piaciuto questo video cliccate sul like in ogni caso sentitevi liberi di esprimere il vostro parere purché in maniera educata e soprattutto rispettosa di tutti non solo del sottoscritto ma anche di eventuali altre altre persone che dovessero intervenire grazie a tutti e al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti